Iaicaddi, ma oggi mi voglio bene. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, siamo qua nel parcheggio, in un parcheggio, siamo qua in un parcheggio a Firenze perché mi sto addentrando nel cosiddetto Mercafir. Mercafir è il mercato delle opportunità dove tu puoi trovare la frutta, quella proprio da ingrosso, di provenienza quasi solo italiana, quindi comunque anche molto buono ed è a prezzi che vi farò vedere molto molto bassi, quindi per chi sta in città, io sono a Firenze se no io o prendo la frutta dagli alberi o comunque la compro al mercato, per chi vive in città è comodo trovare il punto di riferimento, l'ingrosso di riferimento perché come si sa al giorno d'oggi la frutta costa veramente tanto, quindi adesso andiamo entro e vediamo cosa troviamo e cosa prenderemo. E noi a Uma Uma vedremo un'occhiata, un'occhiata ai Craigs. ecco sicurissimo, banane, un cartone di banane, 10 euro, 9,95 euro, sono tantissime, è un cartone intero, non so quanti chili saranno, comunque credo su per giù almeno 9 chili, 10 chili sicuramente. Gli ananas costano un po' di più perché ovviamente questa è la parte della frutta importata, 2,45 euro al pezzo, i fichi, 4 kg di fichi a 5,95 euro, il race è bellissimo. Come potete vedere qua ci sono le pesche, le albicocche, le pesche e le pesche 3,95 euro, 3,700 euro. Quindi per chi si fa i succhi è molto molto utile o per chi volesse fare una decorazione a base di frutta, viene qua, si fa il carico a scatoloni e porta tutto a casa, vedremo quanto spendiamo alla fine. E se a qualcuno di voi piace spaghettare 10 chili di cetrioli a 1,95 euro presi per gli spaghetti, di cetrioli e succhi. Succhio di cetrioli. E per chi quando mangia pensa di essere poi incinto, ecco, i pomodori bambino, nel senso mangia uno di questi e si sentirà incinto per fai odore. Una cassetta di questi pomodori, non si vede, 9,3 kg, 4,95 euro. Unica cosa che costerà un po' di più di questa spesa saranno queste fragole per fare i succhi, che è un chilo 6,50 euro. Quasi quasi cambio i pomodori. Quattro chili e due euro. Forse questi, un po' macchiati, però buoni. E che cosa ne pensate di 5 chili di carote a 1,95 euro? 5 chili di carote a 1,95 euro? Oh mio Dio! Oppure 8 chili di carote a 8,95 euro? Belline sono. Mi dispiace, non vi posso prendere. Ebbene, abbiamo aggiunto le melanzane, le carote queste perché sennò le altre le avrei sprecate, limoni bio. Si spende solo 19,10 euro. Quindi, melanzane, pomodori, cetrioli, limoni, ananas, carote, banane, ciliegie. Quindi si può anche mangiare frutta e star bene. Quanto meno mangiate una buona quantità di frutta. Non mangiate soltanto cose secche o derivate di pane, mi raccomando. Mangiate col cuore. A presto. Grave mancanza. Mi sono distratta prima, quindi le fragole non le ho prese alla fine. Mio collega sta andando a prenderle per me. E abbiamo qua le cosine. Caricate macchine. Oddio quanti c'è i trigoni. Dovore. I Grazie a tutti